Finalmente arriva la vittoria internazionale, Daniele. No, sì, sono felicissimo. Finalmente, quest'anno ci sono andato a vincere tante volte, dopo mi hanno sempre battuto, ma finalmente se l'ho fatta e adesso ho questo lento, sono molti misti. Com'è stata questa gara? Ma io ho provato a fare da subito il mio ritmo, perché questo da solo, già da prima di metà gara, e dopo ho gestito, sì, magari la seconda stessa delle domeniche, ma è una gran gamba. Però non hai vinto perché non c'era Luca. Beh, questo non si sa. Se c'era Luca, sicuramente se non è stata più difficile. Ok, però è un bel riscatto, no? No, no, è un bel riscatto, sì. Ce l'ho fatta, era la mia opportunità, e ho riuscito a cogliere la stavolta. Grande, complimenti.